Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La scomparsa di Martin Mull, noto attore, comico e musicista statunitense, è stata confermata da sua figlia Maggie Mull, qualche giorno dopo la sua morte, avvenuta nella sua casa di Los Angeles. Nato il 18 agosto 1943 a Chicago, Illinois, Mull divenne famoso negli Stati Uniti a partire dagli anni Settanta, grazie alla sua partecipazione alla sop'opera Mary Hartman. Nel 1985 ottenne un ruolo di rilievo nel film Signori, il delitto è servito, interpretando il colonnello Mustard, tratto dal famoso gioco da tavolo cludo. Tra il 1997 e il 2003, Mull apparve in 73 episodi della serie TV Sabrina, vita da strega, ispirata alla serie a fumetti di successo pubblicata dall'Archie Comics, ottenendo popolarità anche in Italia. Oltre alla sua carriera di attore, Mull era anche un pittore e musicista. Melissa Joan Hart, l'attrice che interpretava Sabrina Spellman nella serie Sabrina, vita da strega, ha ricordato Martin Mull sul suo profilo Instagram dopo la notizia della sua morte, definendolo un amico eccezionale e ricordando con affetto il lavoro svolto insieme. La morte di Martin Mull ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia, tra amici, colleghi artisti e fan. La sua versatilità come artista e il suo talento saranno ricordati con affetto da chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzarne il lavoro, che possa riposarne il lavoro.